nuovo appuntamento con sonda art il podcast di sonda e un nuovo ospite sigla oggi siamo qui con andrea soloni detto solo ciao ciao chi è che può chiamarti solo tutti ah ok non c'è problema no anzi è strano che mi si chiami andrea siamo due andrea comunque al tavolo quindi dai va bene allora subito una curiosità voglio tornare c'è un genere musicale che non supporti ah bella domanda ma guarda in realtà non ti direi liscio probabilmente una polca per il resto per il resto no no sei pronto a qualsiasi genere allora quando è che hai capito nella tua vita che la musica sarebbe stata una parte fondamentale dunque direi intorno ai 18 19 anni quando da passione diciamo che comunque fin dai 14 anni facevo beat con i primi strumenti che c'erano per fare beat hip hop diciamo quindi h950 mpc cose così e dopo mi sono appassionato anche al discorso fonica quindi audio sia studio che live quindi mi sono cominciato a appassionarmi al mix a capire tutte le cose tecniche che stavano dietro insomma anche a quello che facevo e ho cominciato a lavorare in service audio all'età di 18 anni insomma music o altre realtà con cui collaboravo quindi sono partito principalmente come tecnico audio da service diciamo e lì ho capito che anche quell'aspetto lì mi piaceva che l'aspetto tecnico mi piaceva quindi potevo effettivamente provare a investire su questo aspetto della musica insomma questo aspetto professionale esatto non solo gestirlo come passione sul discorso personale insomma la musica è sempre stato, l'ho sempre visto più come una passione che come un adesso divento musicista o divento mi è sempre interessato più diventare un bravo tecnico insomma mi è sempre interessato quell'aspetto lì come si fanno i dischi come si fa a far suonare una cosa bene mi è sempre affascinato questo ho capito che avrei potuto farne una professione una professione esatto però tu sei musicista si produttore ok esatto come si conciliano le due figure allora insomma diciamo che io insomma sono musicista fino a un certo punto nel senso che suono il basso e non sono esattamente un po' l'istrumentista ok quindi si concilia che sicuramente è più facile magari avere idee e soluzioni alternative ai brani su quali si lavora perché magari c'è un approccio appunto da una parte dal punto di vista musicale quindi creativo di arrangiamento che magari coinvolge un po' di più perché è comunque una cosa che io posso fare anche nei miei progetti musicali quindi è un approccio che posso apportare anche progetti di altri ok l'unica cosa che ho imparato magari è non lasciarsi trasportare troppo da questa cosa quindi quando lavori al progetto di qualcun altro e sì sei un musicista però sei un musicista ovviamente al servizio del progetto di qualcun altro quindi bisogna sempre bilanciare queste due cose e anche essere sinceri, onesti con se stessi cioè se per la finalità del brano e del prodotto serve un bassista più bravo o un altro tipo di bassista o un poliostrumentista o un musicista chiamare lo si prende lo si prende esatto sì quindi mettere da parte le velleità da musicista ecco diciamo quello analizziamo un attimo un attimo per modo di dire l'aspetto del produttore il lavoro del produttore io nella mia testa ho il produttore come una figura mitica ok che negli anni però ha cambiato il suo metodo di lavoro è così oppure mi sbaglio da qualche parte no 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 è assolutamente così poi dipende sempre diciamo dal produttore nel senso che ad esempio un Rick Rubin sicuramente non è uno che si deve adattare non si deve adattare ai tempi cioè quindi può rimanere il Rick Rubin a fare quello che ha sempre fatto che ad esempio prendo un Rick Rubin come esempio perché è una figura che non si trova più probabilmente o è molto rara cioè quello che gestisce la totalità del progetto mette insieme un team di lavoro sta sul divano e magari dice andiamo a una conoscenza musicale infinita quindi dice per questo brano ascoltiamo i 30 secondi di questo pezzo dobbiamo fare le chitarre così la batteria va fatta come questa canzone qua mette insieme le idee mette insieme il team e questo è comunque come era il produttore diciamo quindi non aveva necessariamente la necessità di conoscenze tecniche cioè perché c'era ad esempio il fonico di studio o il insomma l'aspetto tecnico nelle mani di altri esatto nelle mani di altri e quello lì quindi lui cosa dice chiamo questo fonico a fare le prese perché mi piace come fa le prese chiamo questo pezzo lo mando a mixare a questo tecnico perché mi piace come mixa quindi è uno che gestisce la totalità del progetto per farsi creare condizioni per cui il progetto ne esca nel modo migliore insomma con la produzione migliore possibile ok negli anni si è un po' non dico creata confusione semplicemente sono state usate la terminologia di produttore anche per indicare ad esempio quello che produce la strumentale per un artista quindi non so prendo la trap o il rap quindi il producer è diventato il beat maker cioè quello che fa il beat perché anche per una questione di esigenza negli ultimi anni quindi di concentrare in poco tempo con le poche risorse che si hanno con i pochi soldi magari anche che si hanno ma con le possibilità che ci sono adesso quindi di con pochi investimenti di avere comunque un piccolo home studio con cui fare tutto quindi il ragazzo che magari fino a poco tempo fino a poco tempo fa stava in casa a fare le basi poi le mandava in giro così diventa quello che chiama l'artista a casa sua gli fa registrare tutto lo segue magari impara anche qualcosa di mix quindi mixa tutto e dalla stanzetta magari di un ragazzo esce già un prodotto buono finito anche perché poi ovviamente con le possibilità che ci sono adesso anche di un apprendimento uno magari in poco tempo due basi di mix per far uscire anche solo un demo o qualcosa di decente riesce a farlo quindi da lì anche solo appunto il ragazzo che fa la base a casa chiama il rapper a riparci sopra si registra fa tutto in casa e esce il prodotto effettivamente può essere un po' associato a un produttore certo è cambiata di conseguenza anche magari per i produttori di un certo livello che appunto si potevano limitare magari prima a star seduti sul divano dire qua facciamo così qua facciamo colà adesso è un po' più dura nel senso che essendoci anche anche dei ragazzi molto giovani che escono e con delle competenze già abbastanza estese quindi anche il produttore deve avere delle conoscenze di base tecniche delle conoscenze un po' più generiche rispetto a prima quindi non solo l'apporto artistico di arrangiamento ma deve anche magari sapere come si riesce a realizzare un certo tipo di suono per averne un'idea quindi semplicemente nella stessa figura che prima poteva concentrarsi solo su determinati aspetti della produzione adesso deve avere un occhio un po' più insomma un po' più attento anche ad altri aspetti questo comporta che magari ci si riesca a concentrare un po' meno su non so la parte di arrangiamento la parte di composizione per stare anche su altri aspetti poniamo anche il fatto che sono cambiate le tempistiche quindi un brano infatti volevo affrontare il discorso delle tempistiche perfetto comunque quindi c'è adesso una questione che in poco tempo bisogna chiudere un brano bisogna avere già la versione finale bisogna non c'è più il magari o è raro che faccio questo poi c'è quello che ci mette la mano al mix poi c'è quello che ci mette la mano al mastering poi c'è quello adesso di solito è più facile che queste figure siano concentrate in una o due persone ma secondo te la qualità ne va un po' discapito la qualità artistica visto che il lavoro è cambiato così oppure no la qualità rimane comunque alta allora la qualità rimane alta quando c'è un artista innanzitutto che ha un po' di idee chiare ok quindi già un artista che parte con che sa il suono che vuole che sa magari riesce in poco tempo già a tirar fuori qualcosa di interessante di qualitativamente molto alto ok in generale purtroppo devo dire che con i tempi di questione che ci sono ma anche gli stessi artisti sono molto meno attenti a questo aspetto quindi c'è più la velocità il fatto di dover far uscire il brano velocemente e non so magari uno al mese per tenere alta l'attenzione lavorare a singoli anziché a dischi e tutte queste cose comportano magari come anche un po' di consumismo quindi come il consumismo cioè hai più cose più velocemente immediate un po' meno qualità rispetto a prima anche se hai mezzi che ti consentono comunque di raggiungere buoni standard in poco tempo questo sicuramente però c'è un po' meno attenzione si segue un po' meno il pelo nuovo cioè si sta meno attenti ai dettagli i dettagli vengono un po' tralasciati diciamo lì sì io quando accendo la radio qualsiasi radio in Italia non una radio in particolare o guardo una trasmissione televisiva di musica tipo l'Eurovision ok noi citiamo una per esempio l'Eurovision io me la guardo e per tre ore secondo me quindi un orecchio che è il mio non da produttore o da musicista secondo me per tre ore c'è la stessa canzone vedo secondo me che c'è un appiattimento dei suoni delle proposte e lì appunto rappresenta tutta l'Europa quindi non solamente il festival che rappresenta l'Italia certo è così oppure sono io con un orecchio che è livellato sul basso no penso che a un ascoltatore diciamo un po' più generico comunque in generale c'è un po' più un appiattimento ma questo diciamo che è dovuto al fatto che c'è anche poca ricerca cioè nel senso che se pensi che noi si è sempre andati dietro gli americani comunque ok però c'era non so alla Rai ad esempio avevamo il centro di sperimentazione musicale quindi si creavano addirittura i sintetizzatori quindi si andava ok c'era comunque una ricerca anche dietro al suono dietro poi il copycat dell'americano quella cosa l'abbiamo sempre fatto l'abbiamo sempre fatto adesso probabilmente questa cosa c'è anche sui suoni perché c'è una standardizzazione ci sono i gli artisti i dieci artisti che vanno di più in quel momento lì vengono emulati anche a livello di suoni perché le software house che producono plug-in e programmi per computer ovviamente magari anche a livello di preset a livello di programmazione vanno a ricreare dei suoni che in quel momento sul mercato stanno andando vanno per la maggiore e comunque c'è sempre stato probabilmente negli ultimi anni ancora di più il cercare di copiare al meglio le cose che fanno gli americani che vanno quindi a livello pop di un certo tipo lo si vede tranquillamente anche in Italia nel senso che comunque prendo un non so un Mahmood ma anche un Blanco comunque sono prodotti sicuramente fatti di qualità lavorati bene con delle produzioni che però io quando le sento mi riportano quasi sempre a cose già un po' sentite americane o meno ma questo ci può stare cioè anche io ad esempio quando approccio una produzione ci sono le reference no? ovviamente ci sono sempre state cioè qua vorrei quel suono lì qua la batteria mi piacerebbe così vorrei fare un pezzo in questo stile e qua quindi quello c'è probabilmente prima c'era un po' più di ricerca sui suoni c'era più tempo che è quel discorso che facevamo prima di stare in studio a sperimentare un po' adesso col fatto che magari c'è da fare tutto velocemente in poco tempo quando si arriva più o meno a un suono che arriva a quello di reference che arriva va bene e si rischia ovviamente di questa cosa secondo me avviene non solo in Italia ma avviene in tutto il resto del mondo quindi ma adesso di media un brano in quanto tempo si riesce ad avere il prodotto finito per fare il singolo il mitico singolo beh anche in due giorni anche in due giorni sì sì perché le richieste sono quelle da parte anche dell'etichetta o delle case discografiche cioè se proprio poi ovviamente sono insomma dipende anche dal tipo di artista però diciamo che più si è ad artisti piccoli che magari sono però con etichette anche abbastanza grosse e lì c'è l'esigenza di far tanto far tante uscite per lanciare il progetto per quindi robe veloci ogni mese far uscire una cosa con pochi preavvisi con comunque anche sul discorso che anche le stesse etichette non c'è più di investimento di prima quindi puntano magari al prodotto che arriva si presenta già lavorato e finito magari già lavorato e finito in un home studio senza un ulteriore passaggio e quindi anche lì la qualità un po' ovviamente ne risente ne risente dipende sempre da queste esigenze e appunto gli artisti magari un po' più affermati più più conosciuti hanno sicuramente più possibilità di lavorare con c'è una questione di soldi sì una questione di soldi di budget che comunque sono diminuiti e anche l'investimento con questo discorso che tutti si possono fare la roba in casa fondamentalmente c'è la ricerca anche da parte dell'etichetta di trovare cose semplici di avere l'artista che ti arriva già col prodotto finito perché tu hai meno sbatte non devi sono pochissimi gli studi delle etichette sono rimasti quelli della Warner cioè dei multinazionali multinazionali però anche lì sono più le volte che il prodotto arriva già fatto e finito dal producer di turno che dicevamo che non è magari quello non è la figura professionale che si occupa solo di quello ma è il ragazzo che dall'inizio alla fine segue tutto lui quindi dalla produzione al mix alla registrazione tutto tutto e quindi è proprio cambiato tutto questo anche le tempistiche e di conseguenza anche la qualità per forza di cose quindi i tempi che per accordare le pelle dei tamburi dei pinflodi ci mettono 15 giorni in sala sono finiti sono finiti sono finiti sono finiti che da una parte può anche essere cioè si può anche vedere i lati positivi di questa cosa cioè che io ho sempre pensato che la cioè essere un po' troppo prolissi studio perdere troppo tempo su determinate cose poi ammazzi la creatività cioè di solito ci sono poi le volte che la cosa fatta velocemente viene fuori meglio perché magari c'è più urgenza comunicativa e quindi in poco si riesce a sintetizzare un messaggio giusto una produzione giusta anche magari con gli errori del caso ma però il prodotto finito nell'insieme è buono quindi guarda anche lì sono modi diversi di produrre di fare che lo stiamo capendo anche un po' adesso come cosa succede ci sono poi dall'altra parte si è verificata insomma la cosa che ci sono ragazzi anche molto giovani che riescono ad arrivare a dei livelli molto buoni anche in più campi quindi sia mix che produzione e quindi c'è comunque in pochi casi c'è un avanzamento professionale rispetto a prima cioè si cambiano le competenze ma anche la capacità di alcuni di adattarsi quindi insomma io stesso ho dovuto apprendere cose che magari prima facevo fare qualcun altro c'è stato obbligato perché è anche una richiesta dell'etichetta un'esigenza quindi mentre prima avevi ed era accettata la cosa che c'era il produttore poi c'era l'assistente di produzione poi c'era quello che registrava tecnico di presa poi c'era il tecnico di mix uno o due magari poi c'era il tecnico di mastering adesso è mi viene a produrre il pezzo e me lo dai finito quindi io vado produco mixo masterizzo perché hai citato dieci figure che sono state segate esatto quando c'è del budget c'è la possibilità io chiedo sempre di produco va bene arrivo anche a mixarlo però almeno il mastering lo facciamo fare un orecchio esterno oppure le prese di voce chiamiamo il regas che viene a fare quando ci sono a fare le prese di voce sono le indicazioni le prese di voce mi dà una mano a fare certe cose si chiama un assistente però appunto ci deve essere la possibilità e deve essere un certo tipo di lavoro magari insomma perché un orecchio esterno serve in una produzione sì secondo me sì cioè insomma guardiamo anche perché noi prendiamo sta roba qua ad esempio dall'estero noi prendiamola in riferimento ai pezzi ai brani poi non andiamo a vedere come sono stati lavorati quei brani in America è ancora normalissimo che su un brano ci siano 20 figure che si lavorano sopra andiamo a vedere Frank Ocean ok vabbè adesso poi ovviamente dico delle cose gigantesche però vai a sentire una qualità del genere vai a vedere chi ci lavora ci lavorano 30 persone ci sono due o tre persone che mixano poi l'ultimo che ci mette mano magari è il mixer super famoso però ci sono almeno due o tre tecnici di mix che ci mettono le mani prima c'è il tecnico di mastering c'è l'assistente di produzione l'assistente di mix ci sono tante figure e è una cosa quella della collaborazione che noi in Italia abbiamo poco cioè c'è il io faccio tutto io forse da sempre però sì da sempre sì sì da sempre si vedeva anche nell'elettronica quando in Francia è partito il French Touch che tutti si chiamavano si facevano i featuring si davano una mano da noi invece c'era sempre si guardava un po' in Cagnesco tra chi faceva la stessa roba c'era sempre questa competizione una cosa che ho visto un po' magari che invece si è appianata con la trap negli ultimi anni vedi che comunque si fanno tutti i featuring tra di loro è più dovuto a una questione di mercato quindi ormai il disco vende se c'è i dieci featuring sopra e perché vai a radunare i fan dei dieci artisti su un brano delle compilation fondamentalmente però almeno c'è collaborazione quindi c'è il rapper famoso che magari si chiama quello meno famoso nel featuring cercando di dargli una mano dall'altra parte poi vedi anche le necessità cioè quelli che fanno i featuring forzatamente perché glielo impongono un'etichetta e poi magari si stanno anche sui coglioni tra di loro succede però sì magari non abbiamo preso questa cosa degli americani cioè gli copiamo le produzioni ma non il modo di farle cioè quindi che si trovano in studio in dieci ok invece se in studio c'è l'artista e il producer quindi secondo me l'orecchio esterno serve hai parlato di urgenza comunicativa prima tu avverti visto che hai lavorato con tanti artisti tu avverti chi ha più urgenza comunicativa quando sei in sala con loro sì assolutamente sì 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 c'è penso ad esempio a un salmo che è per quanto insomma è comunque una persona che a livello tecnico ne sa quindi è difficile raccontargliela cioè nel senso questo lo sistemiamo dopo questo poi lo mettiamo a posto è uno che sa cosa vuole è uno molto talentuoso sicuramente ed è uno che sicuramente quando è in studio ma ha questo tipo di urgenza cioè teneremo di conto che comunque ha qualcosa da dire sicuramente ecco c'è chi invece magari trova più difficoltà magari non ha questa urgenza comunicativa però ci arriva ecco magari quindi la scopre man mano che si lavora un brano ok quindi si arriva alla fine del brano che magari verso la fine arriva lo scatto anche da parte dell'artista quando invece prima magari lo devi un po' seguire di più lo devi imboccare di più poi ci sono invece quegli artisti che arrivano e dicono no facciamo così 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 e tu hai già ben chiaro cosa fare dove andare tipo appunto facevo l'esempio di Salmo ce ne sono ovviamente anche è più facile ovviamente nell'artista singolo quindi ovviamente quando c'è il gruppo quando c'è la band è già un po' più difficile però si si nota si nota questa cosa si si anche live la noti comunque sì certo certo chi dal vivo ha un riscontro anche sia su come suona lui che sul pubblico secondo me li vedi si nota questa cosa vedi la differenza quindi il live è tornato un po' la prova del 9 sì assolutamente negli ultimi anni cioè specialmente sì negli ultimi due anni vedo proprio che c'è un ritorno al live anche da parte dei super giovani e comunque dei molto giovani che vanno che hanno capito che sta tornando a essere comunque un punto di aggregazione cioè un momento di aggregazione dove puoi vedere il tuo artista dove puoi capire anche insomma che tipo di artista è che tipo di artista è effettivamente quello che ti aspettavi diciamo anche sei il salvatore della tua vita in qualche modo oppure no secondo me sì sì assolutamente fortunatamente sta tornando il live come prova come prova di qualità di qualità del progetto artistico sì esatto tu ti ricordi cosa hai provato la prima volta che sei entrato in uno studio come produttore non come musicista dopo te lo chiedo anche come musicista ok allora guarda come produttore è stato semplicemente che stavo lavorando a un disco molto grosso di cui adesso magari non faccio il nome e il c'era il produttore ok c'era uno dei insomma c'erano due produttori in questo disco qua e io ogni tanto dicevo la mia cioè nel senso magari mentre l'artista era di là io al produttore dicevo qua ci starebbe bene magari anche una cosa così e il produttore subito dopo ripeteva all'artista qua ci starebbe bene una cosa così allora io lì ho capito beh cavolo posso farlo anche un tanto quindi lì ho avuto insomma mi sono sempre detto vorrei arrivare intanto ad avere delle competenze tali per cui non mi si può recriminare nulla quindi prima di propormi come produttore prima di fare dei corsi che adesso si vede dovunque dei corsi fatti un po' da tutti mi sono sempre detto mi do i 40 anni che adesso sono 40 anni però mi do un 20 anni in cui imparo 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 e dopo magari posso cominciare a dire qualcosa di mio e questa cosa mi è successa poi a 34 anni insomma quindi neanche tanto tempo fa 35 che ho capito che potevo diventare io il produttore avendo anche le conoscenze tecniche che io sono partito prima da lì poi ho sviluppato magari una coscienza per cui riesco a portare delle cose produttive a un progetto la tua esperienza esatto e vedendo soprattutto che gli altri produttori vedevano di buon occhio quello che dicevo io ho detto provo a dirlo io direttamente senza passare da qualcun altro senza passare con un altro produttore esatto esatto quindi insomma mi è successo questa cosa qua diciamo e invece da musicista la prima volta che sei entrato in studio allora da musicista la prima volta che sono stato in studio ma tanta diciamo che sono sempre stato molto curioso quindi mi ricordo la prima volta che sono entrato all'esagono che adesso non c'è più che era uno di quegli studi appunto che non si vedono più o si trovano raramente e che c'ero già è entrato un po' come assistente dentro quindi ovviamente sai quando ci entri come musicista hai la possibilità di lavorare con determinate macchine con determinata gente è proprio il paese dei balocchi cioè ai tempi c'era questa questa cosa qua adesso probabilmente c'è meno stupore quando entri in uno studio a meno che non siano studi di un certo calibro mi ricordo quando con il mio gruppo abbiamo fatto l'ultimo disco a Verone in uno studio che si chiama Sotto il mare studios di Luca Tacconi che è uno studio incredibile che non se ne vedono più di studi così quindi macchine a nastro tenute a regola d'arte un banco mixer Sony che non si trova quasi più tutte però cose che suonano da paura tenute benissimo con Garbo e ci sono finito con Carlo Corbellini dei Post Nebbia che dovevamo fare una cosa insieme Carlo ha 23 anni un produttore già bravissimo secondo me e lui quando è arrivato lì dentro non aveva probabilmente mai visto uno studio del genere e quindi insomma c'è secondo me questa cosa in poche menti elette che riescono a comprendere questa cosa ecco però c'è ancora il fascino dello studio perché anche produttori di Milano che adesso lavorano con tutto il pop produttori giovanissimi penso a un mister monkey che adesso lavora con tutto il pop di Milano quando vedeva che mettevo le foto dei nastri mi scriveva dobbiamo andarci in questo studio dobbiamo usare il nastro dobbiamo fare cose con il nastro che io dicevo sì con le tempistiche che hai facciamo un po' fatica però sì c'è il fascino e il fatto che gli studi di un certo tipo c'è ancora però sì anche a lavorare con le major non c'è più questa esigenza di andare nel megastudio se la roba la riesci a chiudere anche in casa va bene allora va bene è un po' un peccato insomma che tutti gli artisti facciano queste esperienze di questo tipo dentro a degli studi così senza fare i nomi ovviamente ti sei trovato quando appunto hai lavorato come produttore in qualche caso anche in un caso solo un po' in difficoltà per motivi diversi è successo questa cosa? di solito dipende sempre dalle etichette nel senso che a volte succede che arrivino delle richieste da parte dell'etichetta magari da quello che si occupa del marketing cioè nel senso o di chi non ha la competenza ti faccio un esempio senza fare i nomi senza fare i nomi mandiamo il mix finale il mix master finale all'etichetta arriva un messaggio in mail da uno dei capi dell'etichetta che dice al minuto il basso mi sembra distorto e cacofonico ok al cheio insomma ti senti un po' a disagio per il semplice fatto che ti arrivano osservazioni e critiche da chi si deve occupare di altra cosa ok perché probabilmente appunto non c'è più la percezione del l'autorità anche del produttore o comunque viene tutto visto appunto come una filiera produttiva quindi quello che ci mette i soldi può dire la sua su tutto ok cioè non è come il produttore dell'etichetta il solito discorso di Frank Zappa che diceva era meglio quando c'era il vecchio col sigaro che non ne sapeva niente però ci metteva i soldi e non faceva domande esatto investo vediamo come va quando c'erano i soldi se lo potevano permettere poi c'era quello che andava male quello che andava bene però di certo non metteva il becco nel discorso di produzione ecco invece arrivano queste osservazioni da chi magari non ha competenza o semplicemente si deve occupare di altro e quindi lì molto semplicemente di solito se ne esce mettendo in copia l'artista dicendo questa era una scelta artistica quindi mi rimando all'artista e l'artista risponde direttamente il mix va benissimo procediamo con la stampa e il responsabile di etichetta risponde ok perfetto procediamo con la stampa senza neanche bisogno si risolve si risolvono però si ci sono queste cose magari anche in fase di produzione ti devi interfacciare a volte con con si insomma frange di questa filiera produttiva che la vedono più come un prodotto da consumo e pensano che se non c'è il basso esattamente intonato con la voce in quel punto in quei tre secondi lì è uno sbaglio perché deve essere tutto perfetto invece no è una scelta artistica fatta per voluta appositamente per quello e magari ogni tanto avere a che fare con i personal manager degli artisti perché a volte non hai la persona competente anche lì su determinate cose quindi magari ti trovi a confrontarti su certi aspetti con una persona che non è esattamente competente su quell'argomento che però vuole mettere la sua parola gli unici momenti sono questi e poi vabbè dipende dagli artisti nel senso che a volte il lavoro del produttore in studio diventa anche un po' quello di psicologo devi capire un attimo la persona che hai davanti come provare a sottoporgli le alternative che hai in mente anche a volte senza offendere qualcuno magari è un lavoro comunque molto delicato delicato e complesso delicato e complesso quindi ci sono ovviamente un po' di momenti difficili però si sta parlando fortunatamente sempre di musica quindi si riesce si riesce anche in quei casi lì sempre a saltare fuori perché appunto comunque sta parlando di musica però siccome tutti i lavori ci sono c'è il rapporto difficile c'è il cliente difficile quello più malleabile quello che magari accetta in maniera più consona ai consigli che invece non li accetta come non so spero che non ci sia ma mi immagino che al giorno d'oggi anche l'idraulico che va a casa di qualcuno si trova quello che gli dice ma sei sicuro di montarlo così il tubo proprio quello il tubo che devi mettere c'è un po' questa cosa qua ma proprio per il discorso che probabilmente tutti con una ricerca su internet possono immaginare com'è il lavoro del produttore o com'è il diciamo che negli ultimi anni i tutologi sono aumentati sono molto aumentati in tutti gli ambienti quindi anche in quello musicale forse nel mondo artistico forse ancora di più un po' meno verifica no? eh sì a parte il fatto che io penso che ognuno deve fare il suo mestiere cioè io non sono un produttore se entro in sala con te e sento una cosa mi piace o no cioè nel senso però finisci lì non ti vado a dire oh però qui dobbiamo fare questo perché non lo so esatto anche un po' il problema dell'educazione che abbiamo in Italia cioè se guardi comunque all'estero ci sono università apposta ok musicali anche per i tecnici ok adesso noi invece abbiamo va bene abbiamo i diplomi a la SAE i diplomi a saluzzo che sono entità private ok quindi non c'è un'università pubblica sì 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 che ti dia anche quindi sono corsi che paghi esatto sono corsi che paghi non c'è diciamo non so come per c'è l'iscrizione all'albo dei produttori o dei fonici ok probabilmente ce ne sarebbe un po' bisogno esatto però forse ce ne sarebbe bisogno invece qual è il tuo consiglio per chi oggi un giovane voglia essere voglia diventare un produttore beh innanzitutto fare più esperienze possibili quindi non solo guardarsi video tutorial o andare dei corsi ma fare più esperienze possibili quindi tornare in studio cioè andare magari cercare uno studio vicino a casa di un certo tipo andare a fare dei periodi di apprendistato in uno studio quindi mettere le mani attorno alle non solo attorno ai plug-in ai programmi ma anche ai mixer alle macchine perché così si capisce proprio come funziona il tutto sicuramente avere un minimo di basi di teoria musicale ok e poi per il resto mantenere una mente molto aperta avere tanta pazienza e mettersi nell'ottica che hai a che fare con artisti cioè quindi con persone che hanno determinati tipi di esigenze a volte sono anche molto strani o molto ognuno ha modo suo devi metterti nell'ottica che non è puramente un lavoro musicale o tecnico ma c'è anche tutto un altro aspetto non è solo quello non è solo quello e poi sicuramente l'altro consiglio è cercare di avere più competenze perché adesso serve quello adesso te le chiedono te le chiedono quindi avere delle basi di mix sapere anche solo come funziona un mastering sapere come puoi far uscire una cosa a un livello decente senza farla distorcere sapere come si registra in modo decente una voce perché insomma secondo me è fondamentale tuttora purtroppo si trovano probabilmente negli ultimi anni a maggior ragione per una questione anche di risparmio la parte delle etichette o di queste cose qua si trovano negli studi anche delle etichette penso non so una Warner dei gap abbastanza grossi a livello tecnico perché probabilmente non c'è stato investimento anche sul personale ok quella è una cosa che sicuramente le etichette cercano anche fuori quindi una volta che uno sa un po' come far uscire la propria produzione almeno per mandarle all'etichetta ok quindi non dico che abbia lo standard in quel momento del mercato ma insomma lo standard di volume di suono che sai che quando lo mandi all'etichetta quando uno fa play sul portatile perché purtroppo i talent scout adesso ascoltano le cose sul portatile o dal cellulare gli torni indietro quello che vuoi comunicare ecco secondo me sono cose che adesso un ragazzo riesce a fare in giro di un anno nel senso che in un anno riesce già a mettersi a un livello in cui probabilmente noi ci mettevamo dieci però perché ha le possibilità però appunto deve secondo me fare tante esperienze anche live anche fare qualche giorno in un service vedere come si monta un palco come si monta un impianto sono tutte cose che sicuramente servono anche in quello sì ok e correggimi se sbaglio tu hai lavorato con lo studio mobile della Red Bull è così ok che esperienza è stata? beh molto interessante perché ovviamente era intanto ovviamente gestita dall'estero nel senso che la sede centrale della Red Bull era in Austria cioè è tuttora in Austria avevano studi in tutto il mondo in giro per tutto il mondo e quindi io mi sono dovuto interfacciare subito con i tecnici che avevano chiamato alcuni tedeschi alcuni inglesi che avevano costruito lo studio c'era una richiesta di standard molto alta immagino però è stata una bella esperienza perché c'era c'era del budget c'era una strumentazione notevole e c'era la possibilità di fare le cose diciamo un po' alla vecchia però insomma tipo il disco di Salmo è stato spostato lo studio mobile nel giardino di casa sua in Sardegna e siamo stati lì due mesi quindi abbiamo potuto lavorare a un disco per due mesi nel giardino di casa dell'artista e infatti è uscito Playlist che comunque è uno dei dischi degli ultimi anni più importante probabilmente e per il resto comunque sai era uno studio finanziato da un colosso come la Red Bull e quindi innanzitutto si lavorava bene si lavorava con artisti grossi senza problemi di budget quindi è sempre un bel lavorare insomma gente che investe per contenuti di un certo tipo è stato sicuramente molto interessante anche perché mi è dato la possibilità di conoscere molti artisti di vedere altri aspetti del mondo musicale non solo applicato al mercato musicale ma anche ad altro quindi così come mi è servito quando abbiamo lavorato ad alcune sync per cinema o pubblicità che comunque è sempre aspetto musicale ma applicato a qualcos'altro esatto che è un'altra cosa che consiglio comunque quindi provare a fare produzioni di tutti i tipi cioè provare a fare la produzione per un artista ma provare a fare una produzione anche per un spot che è una cosa che può capitare certo e dove girano tanti soldi dove girano molti più soldi che nel mercato discografico diciamo quindi quello lo consiglio a prescindere direi che in Red Bull la percezione era appunto quella di essere anche se era strano perché era mobile era fatto in un certo modo comunque l'impressione era quella di essere uno studio in un grande studio in un grande studio come i teppi ma come tuttora ci sono però ce n'è sempre meno esatto ma per capire com'è che sei arrivato a lavorare nello studio mobile della Red Bull cioè una telefonata molto semplicemente è stato un passaparola di gente cioè io avevo uno studio di registrazione abbastanza noto esatto che ho gestito per otto anni si chiamava Blue Audio Factory quando l'ho chiuso la gente alcune delle persone in cui ho lavorato sapevano ovviamente che avevo chiuso lo studio e è uscita proprio appena appena ho chiuso lo studio è uscita questa cosa di Red Bull e sono stato contattato da loro ad andare a fare un colloquio con loro perché gli avevano gli era stato riferito il mio nome se non ricordo male da Damir Ivic che è un critico musicale e da Emiliano Colassanti di Fortiture che erano non so per quale motivo Damir perché scriveva per il magazine della Red Bull penso quindi si vede che hanno chiesto loro un nome e mi hanno contattato direttamente ho fatto un colloquio con gli ingegneri tedeschi e inglesi quindi vuol dire che il lavoro che hai fatto negli otto anni ti è servito a entrare in questo caso nello studio mobile della Red Bull certo sì 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 assolutamente la qualità del tuo lavoro ti ha portato a questo esatto qualche domanda invece più private cioè private in livello musicale ovviamente ci mancherebbe allora gruppi gruppi artisti solisti che preferisci anche che non è prodotto dici no no anche che non è prodotto cosa ti piace allora adesso mi piacciono tantissimo nel post nebbia penso che Carlo sia veramente super produttore tra l'altro molto giovane quindi ha ancora la possibilità col talento che ha e col insomma non dovendo magari adesso pensare troppo i soldi ha anche la possibilità adesso di poter di potersi divertire anche dir di no a della gente e l'ho trovato un ragazzo cioè dei ragazzi veramente con un'idea in testa ben precisa con la voglia di approcciare la musica e la produzione in un modo intelligente anche un po' nuovo una mentalità molto aperta e mi hanno esaltato molto perché siamo 23 anni quindi giovani molto giovani e quindi loro come a livello di band che poi insomma è poi Carlo che sta dietro un po' al tutto mi piacciono veramente molto in Italia all'estero ho sempre avuto un po' la passione per James Blake quel tipo di produzione alternative ma anche con beh insomma anche Kendrick Lamar trovo sempre insomma anche la qualità che tutte le volte mi chiedo è quello che mi sprona a dire cavolo vorrei fare un disco così se no stavo pensando anche in Italia a livello di solista beh insomma sicuramente per quanto non sia esattamente una delle cose che ascolto penso che non so l'ultimo disco che ha fatto Guè con Bassi Maestro l'ho trovato molto interessante perché è un modo di fare le cose dove ha il rapper gigantesco che potrebbe tranquillamente sbatterse e fare l'ennesima hit da classifica invece si va a chiamare il vecchio produttore che fa tutto con l'MPC come non si fa più quei campionamenti e vanno in giro e ti spiega come ha fatto il campionamento di quel pezzo è una cosa interessantissima che mancava quindi non è esattamente Guè non l'ho mai ascoltato troppo ascoltavo dell'altro rap delle altre cose però quel disco qua ti ha lasciato molto non tanto a livello di suoni che non ci sento niente di estremamente nuovo ma col fatto di far vedere anche un po' a chi lo segue che si può fare anche in un altro modo ecco e invece a livello di dischi a parte quelli di gazebo che bisogna avere ok lo dico io ok quali sono i dischi che uno dovrebbe avere nella sua discoteca casalinga secondo te allora passato recente non recente remoto certo attuali beh sicuramente mi verrebbe da dire poi dipende ovviamente da cosa uno anche a che mi rea diciamo se tu dici un produttore cosa dovrebbe avere magari penso non so a un disco di Dottor Dre Dre 2000 ad esempio penso poi sai lì anche il discorso non ce ne talmente tanti sicuramente un Frank Ocean ok un un James Blake perché no un Kendrick Lamar cose attuali dico perché poi se ti guarda tirare fuori le robe vecchie ovviamente secondo me dovrebbe avere anche The Shape of Punk One To Come They Refused però ovviamente suono ok su un genere diverso che però ti fa capire anche come funzionano cioè come possono arrivare alla fama anche i dischi di un certo tipo no ti direi adesso col fatto che c'è un po' un ritorno di quell'emo pop punk sta tornando è vero sì non so anche un disco dei Fugazi un disco dei Green Day e un disco dei Blink magari può essere utile ci potrebbe stare sì dico ovviamente cose recenti un po' più recenti sì 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 parlavamo dei dischi giusto da avere in casa esatto sì l'ultimo che mi sento di dire perché ultimamente insomma mi è capitato è per chi magari vuol fare rap pop trap giovane così magari ascoltarsi neffa i messaggeri della dopa old school old school in generale neffa tutto quel freeze the cut tutto quel filone lì che insomma secondo me serve ancora moltissimo sia per i testi che per le produzioni cioè comunque si è visto anche Deda che adesso sotto Taurus ha fatto finalmente il suo disco con tutti i rapper nuovi però con le basi alla vecchia no? esatto secondo me sono cose da fare ascoltare quello che c'è stato è utile esatto un altro è Gué con appunto dicevo con il prodotto da Bassi Maestro è un bel disco progetti a cui stai lavorando invece futuri ce ne sono immagino di sì sì attualmente sono con lo stato sociale che stiamo lavorando al disco nuovo e in un futuro nell'immediato ho delle produzioni di veri in cia dischi oltre allo stato sociale quindi avrò Cimini che è il nuovo disco il nuovo disco ok esatto e ho un sto lavorando con un ragazzo della periferia di Roma che mi ha contattato su una piattaforma internet dove mi si può prenotare un'ora con me per farmi delle domande tecniche o non solo ma bellissimo questa cosa mi ha contattato mi ha mandato tre brani da ascoltare perché possono mandarmi fino a un massimo di tre brani su cui io poi posso dirvi la mia possono chiedermi quello che vogliono ok mi ha fatto partire delle domande intelligentissime per un ragazzo di 17 anni a giovanissimo 17 anni mi chiedeva come mixare la voce con i plug-in stock di Logic cioè che già bella domanda bella dettagliata e mi ha fatto ascoltare delle canzoni se vuoi con un gusto un po' vecchio ok quindi con un po' soul di un certo tipo però 17 anni suona tutto lui si produce tutto lui un bel sound una maturità anche artistica notevole tutto ciò in un ragazzo di 17 anni che mi ha dato una carica ti ha caricato anche te perché assolutamente sì quindi vedi ci sono poi queste cose anche in questo lavoro che mi aspettate che che ti portano a pensare positivo diciamo pensi che essere in Emilia Romagna ti abbia in qualche modo aiutato nella tua professione oppure no? sì assolutamente sì proprio di sì anche a capire che voleva essere questa la mia professione che doveva essere la mia professione stando ad esempio parlando proprio del centro musica di Modena mi venne in mente quando ho fatto quel progetto ai tempi che avevo 19-20 anni con Manuel Agnelli Cristina Donà adesso non mi ricordo il nome non me lo ricordo esatto del progetto ok quindi parliamo di 20 anni fa 20 anni fa almeno sì 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 dove insomma abbiamo imparato dove ho conosciuto le prime persone con cui lavorare come fonico ad esempio come studio con cui fare i dischi con cui andare in giro fare i suoni e ho imparato anche un po' di come funzionava questo ambiente quindi ho capito che avrei voluto provare a fare quello di professione sono realtà ad esempio anche questa del centro musica e non solo che secondo me non si trovano tanto in giro per l'Italia in giro per l'Italia ma penso anche a un Bologna un posto come sì certo lo sghetto club o il cortile caffè dove fanno jam tutte le sere dove è in realtà che è difficile adesso trovare in giro ok anche quindi hai la possibilità anche di eventi di assistere a cose che secondo me è diversa quindi c'è ancora humus da noi sì secondo me sì ok sì lo chiediamo come si chiamava il progetto lo chiediamo fuori fuori campo si può dire no? fronte del palco fronte del palco fronte del palco esatto chiudiamo con l'ultima cosa qual è la tua paura più grande a livello artistico? a livello artistico vabbè di perdere le idee non aver più idee da dire insomma non aver più la mia da dire soprattutto anche di perdere la voglia che può succedere che hai in seguito magari a delle lavorate pese o quando ti devi confrontare con anche magari appunto ti facevo prima l'esempio delle etichette devi rapportare con altri tipi di figure che è facile a volte no? che dici ma chi me lo fa fare di star dietro a uno così di fare però poi appunto trovi magari il ragazzino di 17 anni che spacca cia voglia e carico che ti trasmette e ti torna la voglia come vent'anni fa insomma quindi direi che le paure più grosse sono queste Andrea grazie di essere stato con noi grazie a voi e invece ci hai spiegato il fatto di essere un produttore nel 2023 esatto perché è diverso rispetto a tanti anni fa esatto ok grazie ancora grazie a voi Andrea Soloni ciao